Sapere antico e moderno. Iscriviti al canale e metti mi piace. 5 frasi di Charles John Afam Dickens C'è una saggezza della testa. E una saggezza del cuore. Il mio consiglio è di non fare mai domani ciò che puoi fare oggi. La procrastinazione è la ladra del tempo. Ci vogliono 20 anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo. E 20 minuti a un'altra donna per farne un idiota. La carità comincia a casa propria. E la giustizia dalla porta accanto. Tutti gli imbroglioni della terra messi insieme sono nulla in confronto a coloro che ingannano se stessi. Grazie per la visione.